Un colore che mi piace moltissimo è questa fusione fra il verde cinabro e il giallo di cadmio e ancor più viene esaltato dalla presenza del rosa di sottofondo, come in questo caso. È una delizia straordinaria, un piacere proprio mettere il colore sulla tela. Provate questi accostamenti arditi, ma assolutamente straordinari e veramente imperdibili. Vi aspetto domani sera alle ore 21 per la diretta, mercoledì 19 ottobre. Ci salutiamo e ricominciamo la nostra avventura.